Questa roba qua che vedete è tutto l'impianto smontato della regia di STT Vlog Ovviamente dopo tutto questo tempo che siamo su YouTube qualcuno si sarà mai chiesto Che razza di impianti ho utilizzato fino ad ora E che quindi vi faccio vedere come ho costruito questa, la regia che avete sempre visto durante il montaggio dei video Io direi di non perdere tempo né con sigle né con niente Ma andiamo a montare tutto questo popò di roba E cominciamo E cominciamo Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Questa qui è la scatola della telecamera con la quale sto registrando in questo video Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Ascii che me ho fai Ciao 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 Siamo qua al telefono Ci fa l'audio Eccoci Quindi adesso dopo questo video Che è un grande porco Cari E Vabbè A tra poco Tuck Cracker Dunque se questo video ti è piaciuto Mettimi assolutamente un like E vi dovrebbe al super super piacere Iscriviti tutti ai miei social network che vedi in descrizione Ti metterò nella descrizione di questo video Noi ricordatevi una cosa Evitate di fare queste tazziglie Io di regia Ma come sto facendo io Però è che a me Tre schermi al posto di due Fanno comodo Cazzo Anche adesso partireà tutto retro news Buonanotte Applica i risultati E inizio Questo qui ragazzi che vedete Anche vi farò vedere Nel desktop di windows E' la disposizione monitor Di questo computer Ovvero Come diamo I video Ti devi stare conto Vabbè Per questo video è tutto Io direi di restituire la linea A quanto riguarda La pubblicità di youtube Perché è lì Non ci deve sempre far riconoscere E intanto Lasciamo perdere Qualciò che abbiamo detto su youtube E non vi resta che E lasciarvi Alla prossima Ciao 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 Ciao